ciao come stai? bentornato sul mio canale allora oggi ti voglio mostrare alcuni dei miei dei miei lip gloss alcuni dei lip gloss che sto usando in questo periodo e vorrei fare anche dei kiss e mad sound che so che ti piacciono tanto quindi oggi diciamo voglio farti rilassare e cercare di alleviare i tuoi pensieri voglio che passerai questi minuti con me in totale relax lasciando andare i pensieri negativi che affliccono affliccono un po' tutti quanti noi quindi caccia via tutte le tue paure le tue ansie prendile e gettale via e dedicati alla tua pace e al tuo benessere mentale anche solo per questi pochi minuti insieme a me inizio inizio innanzitutto con a farti alcune carezze sul alcune carezze sul viso quindi inizio con così inizia così il nostro percorso di relax vado ora dall'altra parte del del viso e mi raccomando rilassati chiudi gli occhi adesso chiudi gli occhi immagina qualcosa di più rilassante che tu possa immaginare e ora ti faccio un massaggio alla massaggio alla testa ok vieni qui adesso che ti allora allora direi adesso di partire con questi lipstick application not sound e ti mostro alcune delle mie ehm sì alcuni dei miei rossetti lip gloss più che altro che mi piacciono e che fanno tanti bei rumorini innanzitutto vado a togliere quello che ho adesso quindi quindi con un po' di acqua a micellare che tra l'altro sto finendo mi è durata una vita e mezza questa acqua e vado a togliere ok e parto con questo 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 è veramente bellissimo questo c'è anche nella variante trasparente e questo come vedi ha una funzione di plumping alla alla bocca e è abbastanza usato perché mi piace molto è veramente un qualcosa di bellissimo ora te lo faccio vedere ha un profumo veramente delizioso allora aspetta che se così vabbè che non c'è neanche lo specchio però all'inizio ha un sapore molto molto fresco mentolato non so se vedi è leggermente rosato dic ho po 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 no Vedi? Ha un effetto leggermente rimpolpante sulle labbra Ed è molto molto fresco Senti proprio che si va ad attivare un qualcosa Non lo so nelle labbra Ma È fantastico secondo me E questo è un volume lip gloss Sì È davvero bellissimo Volevo prenderlo anche nella variante Quella lì Nella variante Quella lì Aspetta che adesso mi viene trasparente Perché ha la stessa funzione Però questo è differenza di quello È colorato È brillantinato Quindi ho detto vabbè prendo questo Magari quando finirò una bella parte Di lip gloss Prenderò anche Quello lì Trasparente che secondo me è fantastico Voglio prima finire alcuni Di quelli che ho Infatti ho messo tutti i lip gloss in uso Una parte di lip gloss che ho in uso Perché voglio terminarli Dopodiché voglio comprarne altri Perché così sono anche più incentivata A comprare Se finisco Questo Che ne pensi? Tra l'altro secondo me si abbina anche con Il make up che ho fatto oggi Che ho fatto con una palette Di Shiglem La palette di Shiglem nuova Se trovo il link Te lo lascio in descrizione Ma costa poco Ma guarda che colori Veramente Una cosa bellissima E fantastica Colori Veramente super luminosi Adesso vado con un altro Togliamo questo E andiamo Con un altro So con Questo qui Di Shiglem Della collezione Wonka Questo è molto bello Questo si chiama Cookies and Milk Ed è un nude Un nude veramente Molto bello Io gli altri che avevo Li ho dati alle mie sorelle A mia mamma E ho ottenuto questo Proprio per non accumulare Tanta roba Anche perché gli altri Alla fine erano molto simili E ho ottenuto questo Che secondo me È fantastico E poi non appiccicano molto Sai non sono quei lip gloss Che appiccicano Che danno fastidio Certamente appiccicano Perché è la funzione Proprio loro Però non è fastidioso Super appiccichibile Che dà fastidio Sui labbra Quindi comunque Questo è molto Delizioso E molto delicato E forse ci sta meglio Con questo make up Che ne pensi Secondo me si Voglio metterli A posto di qua Perché se no Non si capisce Quindi Ecco qua Questo È leggermente più delicato Sulla labbra Che ne pensi Non ci farei caso Se lo metto Un po' male Molto bello Mi piace molto Che ne pensi Aspetta Voglio cambiare Mano Se vuoi Puoi anche Chiudere gli occhi E ascoltare il rumore Senza che Guardi Il Il video Anche solo Di suoni Alla fine Questo video È anche Incentrato Proprio Sui suoni Quindi puoi Ascoltare La mia voce E suoni Di questi Lipgloss Sulle 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 Labbra Ho deciso Di fare Questo video Un po' più ASMR Perché È da veramente Tanto tempo Che non ne faccio E In genere Ultimamente Ti sto mostrando Sempre Così Nel suo Intel Più che altro O Cerco Comunque Di variare Nel suo Intel Che ti mostro Però avevo Diciamo Anche voglia Di rifare Questa tipologia Qui Che non è un Lipstick Application Ma ho preferito Fare un Lipgloss Application Perché Secondo me A parte Penso che Non l'ho mai Fatta Ma poi È molto Più Rilassante Il rumore Di lipgloss Sulle Labbra Adesso Andiamo a togliere Ne mettiamo un altro Sempre Di chiclem Questo mi piace Tantissimo Gli altri Li ho dati Alle mie sorelle Gli altri Che ti avrò mostrato In scorsi video E invece Questo L'ho tenuto io Questo è un nude Un nude Di questa linea Che si chiama Glitch Out Glitch Out E questo Si chiama Reboot Reboot Tra l'altro Questa è la linea Glitch Out È la linea Della paletta Sui toni Del grigio Che ho Oggi E Questo è Veramente Bellissimo Qualcosa Di spettacolare Ora te lo mostro Anche questo Ha tipo Un effetto Mentolato Ed è Come vedi Sui toni Dell'osa Lo metto Spesso Anche per uscire Così Senza Mettere qualcosa Di troppo Impegnativo Molto 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 Bello Guarda Che bella Tengo anche Geloni Tra l'altro Ti pareva Oggi Sono in tenuta Molto Così Perché Fa molto Freddo E quindi Ho la mia Vestaglietta Con le stelline La mia Vestaglietta Blunotte Con Le stelline Ti faccio sentire I suoni Che fa Questa Vestaglietta Mi piace Con Il rosa Secondo Mi si sposano Benissimo Grigio E rosa Adesso Adesso Ne mettiamo Un altro Un altro Il Gloss Bomb Fenty Beauty Sweet Mouth Che sarebbe Questo qui Nella tonalità Rosa Quelli ce ne sono Tantissimi Questo nella tonalità Rosa E poi Ho anche Il Fenty Glow Credo Sarebbe Quello Nella tonalità Dorata Bronzo Diciamo Quello Più famoso Questo Mi piace Usarlo Molto Hanno Odore Di Fragoline Mi piace Usarlo Molto Su Altri Rossetti Però Anche da solo Però Secondo me Su altri Rossetti Da quel tocco In più Ed ecco qua Molto Molto Famoso Questi sono Molto Famosi Come Lip Gloss Non so Per quale Motivo Perché Quelli Di Essence Di Ciglem O Astra O Altri Catrice Comunque Tanti Tanti Altri Marchi Molto Più Economici Sono Alla Fine Uguali A Questi Anzi A volte Mi Trovo Anche Meglio Però È Molto Bello L'unica Cosa Che Non Mi Piace È L'odore Di Fracoline Che Molto Invadente Secondo Mi Però Comunque Lo Uso Lo Uso Perché È Un bel Colore Coff 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 che ne pensi? ti piace? secondo me gli altri sono più belli adesso andiamo con uno che mi piace moltissimo però questo qua io devo dire che lo uso molto in estate uno preso da YesStyle questo qui l'ho preso da YesStyle e non so come caspita si chiama ragazzi non lo so comunque lo preso da YesStyle è questo qua fatto così ah ecco si chiama Non Sticky di Zoll Tint adesso ti faccio vedere Non Sticky da Zoll Tint ed è una specie di lip gloss tinta a parte mi piace tanto il pack fantastico ma questo è leggermente ah no è proprio come una tinta perché va a tingere le labbra bello questo veramente mi piace molto e lo uso tantissimo in estate secondo me è anche quasi finito bello bello ah mi piace mi piace mi piace l'ho usato veramente tanto però adesso sembra più forte perché sono bianca ma in estate essendo più scura di pelle è fantastico è bellissimo eccolo qua eccolo qua ti piace questo fa tipo un effetto rimpolpante sulle labbra poi se tu lo togli o lo asciughi lo tamponi un po' con l'avelina ti rimangono le labbra a tinte veramente bello è veramente molto molto bello ne ho anche tanti tanti altri se vuoi ti faccio anche la seconda parte te ne faccio vedere altri che mi piacciono tantissimo che hanno delle tonalità un po' più dorate sono alcuni che io uso meno però mi piacciono tanto se vuoi ti faccio anche la seconda parte fammi sapere se se ti piace come tipologia se ti rilassa a me piacciono anche tanto le carezzine sul viso mi rilassa tanto quando qualcuno mi è come se mi cocolasse veramente le trovo molto rilassanti a me piacciono c'è ma cosa ci cosa Does lo ci no ed eccomi qua quindi questo è quanto per la prossima volta se tu puoi io ti farò altri altri video di questo genere quindi fammi sapere e io e ti ci vediamo alla prossima volta buon relax mi raccomando prenditi sempre del tempo per te per la tua pace e la tua serenità mentale non trascurare mai la tua pace e la tua tranquillità mentale mi raccomando è molto importante un bacio e un buon relax ciao ciao ciao